Proseguono gli step per la stesura del nuovo piano regolatore del Comune dell'Aquila. Interrotti i rapporti con i predecessori, c'è un nuovo team con nuovi componenti dell'ufficio del piano, un lavoro sinergico tra comune e università con la quale è stata firmata una convenzione. Il professor Pierluigi Mantini sarà invece nell'ufficio del piano per occuparsi delle future norme tecniche. Le parole d'ordine saranno sostanzialmente tre. La sicurezza ed è stata firmata una convenzione con gli INGV che consegnerà i suoi studi dettagliati. Questo servirà ad avere una pianificazione responsabile del territorio. La seconda parola d'ordine sarà la lotta al consumo di suolo. Il Comune già si è anticipato con il bando verde per riportare a verde tanti territori. Con questa prova è stata recuperata, ha spiegato l'assessore di riferimento, una capacità di 19 volte Palazzo Margherita, sede del Comune. In città la gente inizia a essere sensibile. Poi c'è lo sviluppo. L'Aquila per De Santis non può restare bloccata nelle previsioni degli anni 70. In alcuni casi sono esagerate, in altri paralizzano le possibilità anche in termini di infrastrutture e nuove tecnologie. Il piano interesserà tutte le amministrazioni. Il team è fatto da giovani docenti e l'assessore auspica che questa sia l'ultima stesura. Siamo al punto che bisogna concludere la progettazione del nuovo piano urbanistico della città dell'Aquila. Abbiamo dato uno sprint da quando ci siamo insediati con questo secondo mandato, concludendo i rapporti che c'erano con i predecessori degli attuali consulenti. Abbiamo scelto di collaborare in maniera profonda con l'Università dell'Aquila. Un rapporto rinnovato, una nuova convenzione di lavoro. L'Università dell'Aquila sarà un attore fondamentale per la conclusione e la pianificazione del nuovo piano regolatore del Comune dell'Aquila. Lei già ha in mente quali saranno i punti focali? Sicurezza, lotta al consumo del suolo e sviluppo. L'Aquila è una città che ha bisogno di coniugare queste tre direttive e sarà importante metterle insieme. Proprio per questo ci serve la professionalità dell'Ufficio del Comune dell'Aquila, dell'Università dell'Aquila e anche del nostro legale Mantini, il professor Mantini, che ci aiuterà a seguire lo sviluppo delle norme tecniche del futuro piano regolatore.